Buonasera amici di Ulmilano, vediamo come sono andate questa prima giornata della seconda fase con i Titan che hanno sfidato gli Olympiagots, i Morgans che hanno incontrato questo cazzo e gli Universi Cari che hanno sfidato il Bira Real, primo in classifica nel Giro NB. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Niente oggi non rilasciamo dichiarazioni, sconfitta pesante Grazie a tutti Vittoria importantissima, oggi ce la siamo giocata bene, abbiamo imposto il nostro gioco fin dal primo minuto e la nostra idea è comunque sempre vincerle tutte, portare a casa le partite, arrivare fino in fondo, proveremo a ripeterci come l'anno scorso, proviamo a vincerle, però ci siamo. Potevamo fare qualcosa in più senza altro, abbiamo perso comunque un'ottima squadra, penso che ce la possiamo battere con chiunque, oggi eravamo un po' stanchi, succede, ce la possiamo competere con tutte e la prossima partita con un'altra mentalità, sono convinto che andremo a vincere tutte. Grazie a tutti Grazie a tutti È stato diciamo dura perché tornavamo un po' dalla sosta, però ce la siamo cavata bene, riusciamo ad andare avanti bene in questo torneo, in questo girone e speriamo di far bene anche le prossime. Purtroppo questa è la prima partita della Champions, sono andata come volevamo, abbiamo lottato comunque, erano molto forti i nostri avversari e speriamo di rifarci e di portare qualche vittoria in questa Champions League. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.